...la curiosità sull'uccello presente nella nostra bandiera. Benvenuto nel suo nuovo alloggio. Ah, quella è la sua auto, può usarla per spostarsi lungo tutta l'isola. E adesso arriva il pezzo forte. Il suo castello l'aspetta. Il padrone di casa è Sione, vive nella casa accanto ed è disponibile 7 su 24 per soddisfare ogni suo bisogno. 7 su 24? Sì, 7 giorni ogni 24. Bene, si metta a proprio agio. Le lascio questo video di benvenuto nelle Samoa americane in modo che possa esaminarlo con calma. Le qualificazioni sono tra 4 settimane. Io voglio solo che la squadra segni un gol. Un gol. Un gol.